Compratelo i miei migliaccio e gridi barrocino, cioccar dalla pattona, ciò i pan di ramerino. Allora bucaioli, oggi chioccioline alla Fiorentina, ricetta presa dal libro di Firenze, chioccioline e lumachine alla Fiorentina. Chiocciole in umido. Allora procediamo con il procedimento, pigliate un tagliere, possibilmente il più sudicio possibile e andiamo a preparare la nostra base di soffritto. Una cipolla, vedete, pressa nel campo e riciacquata così diciamo alla bona, si va a tagliare finemente con questo metodo, il metodo Gordon Darserini. In questo tagliere che io uso anche come lettiera per il gatto, si va a tagliare anche diciamo la carota. Vedete, banca pome, porto via un po' il pastrello ma tanto con il sugo non si è. Vedete, con gli unnelli si va diciamo a schiacciare per sentirse gli bonus, gli è crocchente. Andiamo a fettare anche il sedano a rondelline, sempre con lunghe e questo peperoncino. Il peperoncino fa buono, può disinfetta, capito? E diciamo anche se il giorno dopo tu vas al Cairo, diciamo, ti fa buono perché ti svuota. Vedete, si va a schiacciare raggio di mano e si va a preparare il nostro soffrittino. Io lo fodo da bene, vedete che spettacolarità ragazzi. In questo tegame, dove di anzi ci ho fatto cacare il cane, va a rimestagnere, a mescolagnere, diciamo, piano pianino e gli fa pigliare il dorato. Mentre che osce il nostro soffritto si va a preparare il pomodorino, diciamo, preso ogni cappa, anche quello lì e risciacquato un po' alla buona, dentro la sciocola dell'acqua del cane. Il pomodorino, se non vi garba alla buccia, vuoi gli dare una sbollentata e vuole allevare e se non vuoi buttare dentro ogni ossa, gli fa buono. Gli fa buono perché nella buccia c'è i germi, c'è i germi e gli diciamo di fare l'anticorpo. Questo soffritto ragionassi. Andiamo a pigliare le nostre chiocciole già spurgate dell'agricoltura e l'anto di Empoli. Vedete che spettacolarità ragazzi. E la maiana di Suma, senti come le ragionano. Queste le ragionano in Empolese, gli hanno d'Empoli, allevate esclusivamente con l'acqua e l'Arno. Queste avevano solo acqua d'Arno. Assaggiare di sale e aggiungere via via l'acqua in modo che le bollischino, le manchino di bollore. Per 3 o 4 ore le si fanno cosciere, capito? Che spettacolarità ragazzi. Dopo 3 ore di cottura vedete l'acqua, la si è ritirata bene bene e ora si va alla prova dell'assaggio. Uh la la, let's go! Le mondie! Pizzicanti! Buone! Azienda agricola Eleanto. Allevamento di chiocciole a ciclo biologico completo. Empoli, via della modda, 168 barra sci. Piaci su Facebook o chiama al 4007 87 67. Sì, è un'altra cosa che si fa a ciclo biologico completo. Sì, è un'altra cosa che si fa a ciclo biologico completo. Sì, è un'altra cosa che si fa a ciclo biologico completo. Sì, è un'altra cosa che si fa a ciclo biologico completo. Grazie a tutti.